La rete sarà costituita innanzitutto da un'infrastruttura dorsale in tecnologia Hyperlan che creerà un collegamento a banda larga fra i municipi dei comuni interessati al progetto. La dorsale sarà utilizzata per raccogliere il traffico generato dalle reti che saranno realizzate all'interno di ciascun comune. A partire dalla dorsale cosa succederà all'interno di ogni comune? Su ciascun municipio sarà collocato innanzitutto un apparato Hyperlan Alvarion che diffonderà il segnale radio in tutto il centro abitato circostante. In questo modo si creerà una bolla di connettività che investirà il comune. Così si riuscirà a dare potenziale connettività a tutti gli utenti. Una volta che la rete sarà realizzata, l'attivazione dell'utente avverrà tramite l'installazione di un'antenna ricevente sul domicilio dell'utente. Un cavo di connessione porterà poi la connettività dall'antenna all'interno dell'edificio. Sul municipio e su alcuni altri edifici o punti del centro abitato opportunamente scelti, saranno poi installati dei dispositivi Cisco di nuova concezione. Ognuno di essi genererà una copertura Wi-Fi nel territorio circostante. Gli apparati Cisco saranno collegati a un controller centrale in grado di gestirne il funzionamento. Questo apparato consente di ottimizzare la copertura Wi-Fi in ogni condizione ed è particolarmente utile ad esempio in caso di avarie. Qualora un apparato radio della rete non funzioni correttamente, il controller estende automaticamente il raggio di copertura degli altri, con l'obiettivo di mantenere il più possibile invariata la diffusione del segnale. Il vantaggio della soluzione Hyperlan più Wi-Fi è la possibilità di avere sul centro abitato una bolla di connettività multipla, formata da una copertura complessiva in tecnologia Hyperlan ed ha una serie di bolle di segnale Wi-Fi. In questo modo l'infrastruttura sarà in grado di fornire potenziale connettività a tutti gli utenti che ne faranno richiesta. Il Wi-Fi permette infatti agli utenti la comodità di collegarsi direttamente con il proprio PC in casa o all'aperto, senza bisogno di installare antenne fisse aggiuntive. È una tecnologia affidabile, collaudata e di immediato utilizzo, per questo particolarmente adatta anche a un uso non professionale. L'Hyperlan richiede invece l'installazione di un apparato aggiuntivo di ricezione ma permette prestazioni ancora superiori rispetto al Wi-Fi, anche in termini di copertura, e supporta un numero maggiore di servizi. Per questo si presta bene a soddisfare le utenze più esigenti. Nelle aree coperte dal Wi-Fi, gli utenti potranno collegarsi direttamente utilizzando il proprio personal computer, che dovrà essere abilitato a utilizzare il Wi-Fi. In questo modo potranno accedere al servizio sia all'aperto che all'interno degli edifici nei quali il segnale Wi-Fi riesce ad arrivare. In queste aree nessuna antenna fissa andrà installata, basterà che il PC dell'utente sia abilitato all'uso del Wi-Fi e il servizio sarà immediatamente utilizzabile. Se invece l'impresa o il cittadino risiedono in un luogo non coperto dal Wi-Fi, o hanno necessità di servizi o prestazioni particolari, il collegamento sarà attivato attraverso la copertura Hyperlan. Tutto il territorio trarrà dei vantaggi dal progetto. La popolazione avrà sicuramente a disposizione un numero maggiore di servizi, la presenza diffusa della banda larga contribuirà a creare le condizioni ideali per l'insediamento di nuove attività imprenditoriali, con la possibilità quindi di nuove opportunità lavorative anche nei piccoli centri, che i giovani saranno meno incentivati ad abbandonare. Un utilizzo pieno delle potenzialità di Internet consentirà ad esempio alle scuole di integrare i programmi con contenuti multimediali, favorendo completezza e rapidità di apprendimento. La rete costituirà senz'altro una risorsa che contribuirà in modo decisivo allo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio.